La Camera di Commercio di Pordenone presenta le sue linee di intervento per l'anno 2012. Anche per il 2012 vogliamo sostenere il territorio e particolarmente le imprese. Quali imprese? Direi che quelle che hanno il coraggio di investire e di innovare, utilizzando naturalmente le risorse che le imprese danno o affidano alla Camera di Commercio. Dovremmo farlo attraverso un sostegno diretto alle imprese come abbiamo fatto anche gli anni scorsi. Per questa iniziativa abbiamo stanziato 2 milioni di euro che andremo a derogare attraverso degli specifici progetti e degli specifici bandi. Oltre a questa priorità di intervento, la Camera di Commercio non mancherà di sostenere il sistema economico provinciale in quello che è uno dei filoni strategici per la sua competitività, l'accompagnamento alle imprese nella penetrazione dei mercati esteri, in particolare di quelli emergenti. L'internazionalizzazione è essenziale, continueremo quindi a farlo con attività sia di informazione, sia di orientamento e sia di assistenza. Naturalmente questo anche conglobando dei progetti regionali e anche dei progetti europei relativamente a queste attività di intervento. Il nostro compito è quello anche di sostenere la sua fornitura. Avremo due momenti, una sono le missioni che noi faremo per andare con i nostri imprenditori sui mercati esteri, l'altro è l'accoglimento di delegazioni di imprenditori nel nostro territorio. Avremo modo così di far conoscere loro anche la nostra realtà produttiva. Naturalmente la valorizzazione del territorio è uno dei progetti anche della Camera di Commercio di Pordenone. Qui vorremmo consolidare Pordenone We Love, che è il nostro portale del turismo. Naturalmente Pordenone Legge sarà ancora una volta uno dei progetti culturali che intendiamo fare. Naturalmente progetti culturali che però hanno sempre una promozione turistica, alle spalle, continuiamo ad essere presenti nel tavolo del turismo e lo facciamo con le altre istituzioni. Il nostro intendimento è quello di qualificare e valorizzare anche il turismo enogastronomico, naturalmente con la valorizzazione dei nostri prodotti tipici e anche con il sostegno che diamo alle associazioni per tutti gli interventi. Le imprese cercano servizi più semplici e immediati. Cosa fa la Camera di Commercio per questo? Direi che la semplificazione è essenziale per la vita delle imprese. Quindi sempre di più anche la Camera di Commercio si sente impegnata su questo. L'informatizzazione dei nostri servizi direi che la spingiamo moltissimo, particolarmente anche per quello che riguarda lo stesso registro di imprese. Deve essere molto più semplificato e nello stesso tempo efficace quando serve. Vogliamo anche rafforzare la nostra comunicazione. Oggi la comunicazione è diventata un momento essenziale perché è il modo attraverso il quale noi possiamo arrivare con le nostre iniziative alle imprese. Dopo l'avvio della comunicazione unica che abbiamo fatto nel 2010, la Camera adesso è coinvolta invece nell'avvio del SUAP, che non sarebbe altro che lo sportello unico delle attività produttive. Non dimentichiamo tra l'altro che la Camera di Commercio gestisce per conto della regione fonti regionali per le imprese come il PORSFERS e come la legge 4 del 2005. L'ente pordenonese proseguirà il suo impegno anche sul fronte della formazione, dell'innovazione tecnologica e della regolazione del mercato. Le nostre attività sulla formazione rimangono. Noi facciamo sempre un'attività di orientamento e di sostegno particolarmente per le start-up. Dobbiamo certamente continuare a favorire la trasparenza e la tutela del mercato. Lo facciamo attraverso arbitrato e conciliazione. Per noi diventa essenziale anche la vigilanza sui prodotti e anche sugli strumenti di misura. Questi sono i servizi che comunque Camera di Commercio ha dato negli anni e intende dare, sempre anche qui, cercando di razionalizzare il più possibile questi servizi e anche a semplificarli il più possibile. Naturalmente ci rendiamo conto che in questi momenti particolari questi sono servizi comuni anche alle nostre consorezze a livello regionale. Io credo che per aumentare l'efficienza ci sia la necessità proprio di fare insieme a loro una gestione congiunta di questi servizi. Comunque la Camera di Commercio è uno strumento operativo anche a servizio della regione. Gestiamo per conto loro dei servizi, cerchiamo di farli al meglio, ci auguriamo che questa sinergia con la regione continui anche nei prossimi anni. Siamo come Camera di Commercio direttamente a servizio delle imprese. Credo per ricordare solo una cosa, la comunicazione unica e direi l'unico front office che ha l'imprenditore, perché attraverso i servizi di Camera è in grado di poter far nascere un'impresa non dovendo andare su mille sportelli come faceva prima, ma recandosi solo ed esclusivamente in Camera di Commercio perché qui vengono concentrati tutti gli addempimenti che deve fare per poter naturalmente far nascere l'impresa. Sull'internazionalizzazione pensiamo di avere un'esperienza consolidata. La razionalizzazione e la condivisione delle iniziative con le altre consorelle ci portano ad essere un braccio operativo importante per le imprese regionali. Naturalmente anche qui ci auguriamo di poter condividere i progetti di internazionalizzazione che anche la regione ha. Comunque il fatto più importante che vogliamo ribadire come Camera di Commercio è che il nostro compito è quello di essere vicini alle imprese. Questo è il nostro compito, lo dobbiamo fare come abbiamo detto prima con iniziative di sostegno immediato a loro attraverso dei fondi regionali, con la semplificazione, con la razionalizzazione e con la condivisione di progetti anche di valorizzazione del territorio anche con le altre istituzioni. Il nostro compito, particolarmente in questo momento, che è un momento sì di crescita rispetto agli anni precedenti, ma comunque ci sono anche in questo momento momenti difficili e quello di poter essere assolutamente vicini alle nostre imprese.